Qui in Campania, quei rifiuti che quando i vostri bimbi qui in questa regione nascono sono bombardati prima di tutto davvero da queste nanoparticelle che le malattie le vedete dopo, il primo bombardamento non è su di noi, è sui neonati che non hanno gli anticorpi per resistere e quello che sta venendo fuori è un disastro. L'altra sera abbiamo fatto il congresso mondiale su Zero Waste, rifiuti zero, c'era Ernesto Burgio, un medico di Palermo che ha fatto una descrizione che è devastante. Lui ha riportato quello che, ricordatevi questa fotografia dell'Espresso, SOS bambini, in Italia abbiamo un aumento di tumori infantili del 2%, capite che razza di situazioni stiamo vivendo? Noi stiamo lottando davvero per la vita, qui non siamo qui, ecco perché dobbiamo dire assolutamente no al decreto 90 di Berlusconi che deve andarsene fuori dai piedi questo decreto. Noi dobbiamo ritornare davvero a ridiventare cittadini per favore, per fare questo, voi siamo in tanti qui questa sera, dobbiamo incominciare a capire che dobbiamo metterci insieme. Se ognuno va per i cavoli propri, ognuno lotta nel suo piccolo buco, guardate che non vinceremo nulla in questa regione, in questo paese. Dobbiamo avere il coraggio di metterci insieme al di là di ideologie, al di là di fedi, al di là di chi crede dimostrerà la propria fede impegnandosi qui in questo contesto. Chi non crede altrettanto, mettiamoci insieme gruppi, gruppuscoli di Lachiaiano con Savignano, Sant'Arcangelo a Tremonti con Loutero, non so io. Dobbiamo tutti metterci insieme e formare un'unica realtà, non solo sui rifiuti per favore, ma anche sull'acqua. Tra poco non potrete più birra l'acqua perché non avrete i soldi a comprarvela se ce la privatizzano come l'ha privatizzata Berlusconi lo scorso 6 agosto. Quindi è una lotta per i beni comuni, aria, acqua, terra, energia. Guardate che la democrazia non c'è più, dobbiamo recuperarla partendo dai beni comuni, lottando davvero per questi beni essenziali. Per cui la vostra lotta, per favore, non voglio e vi chiedo, vi supplico, non mollate, trovate tutte le strade, andate avanti, grazie a voi.